Musica La nostra rubrica è il venerdì dal sindaco, questa settimana ci porta a Salassa, un comune di 1800 abitanti del Basso Canavese, sulla destra del torrente Orco, vicino a due centri importanti come Rivarolo e Quornier. Un paese che ha saputo preservare i suoi monumenti e le sue chiese e che valorizza il senso di comunità puntando sui servizi, scuola, biblioteca, banda musicale, centro sportivo, bocciodromo, grazie all'energia di una giovane sindaca, che è anche vice portavoce della zona omogenea, Roberta Bianchetta e che ora ci racconta il suo comune. Salassa si dà per scontato il richiamo ai Salassi, alla popolazione dei Salassi, in realtà non c'è certezza su questa derivazione così netta e qua ci troviamo di fronte alla torre che invece è il simbolo del nostro paese che è molto particolare, atipica, perché appunto ha questa base quadrata che poi invece sulla parte elevata diventa una torre cilindrica, simmetrica rispetto al nostro ricetto e quindi dà adito anche questo a molte leggende, poiché non avendo una documentazione precisa non sappiamo proprio dare notizie certe. Noi ci troviamo in mezzo a due città più o meno grandi che sono Rivarolo e Cornier e quindi abbiamo dei vantaggi perché noi è un paese più piccolo, più tranquillo, col senso di comunità, le gente si conosce ed è un paese che al suo interno ha tutti i servizi essenziali, la scuola, la farmacia, le poste e quindi questo rende comunque le persone in un ambiente più familiare mentre gli svantaggi ovviamente è la facilità con cui i paesi limitrofi ovviamente hanno dei servizi in più che quindi faranno spostare le persone da Salassa verso i loro comuni. Sono molte a Salassa le chiese che sono di pregio dal punto di vista architettonico ma questa davanti a cui siamo è una chiesa sconsacrata che è diventata di proprietà del Comune e fa parte di uno dei progetti che state realizzando e con cui animate il vostro territorio. Ce li vuole raccontare? Assolutamente, sì stiamo cercando in quest'ultimo periodo di portare appunto e cercare di valorizzare i nostri immobili. questa chiesa è molto bella al suo interno, sconsacrata da anni, molti salassesi non la conoscono quindi è giusto aprire le sue porte cercando di creare un punto di aggregazione così da poter essere utilizzato per le mostre, per i convegni ma ci sono anche molti altri spazi che adesso appunto stanno avendo una riconversione proprio per cercare di vivacizzare il nostro paese che è già molto intraprendente grazie alle numerose associazioni che ne fanno parte e che soprattutto hanno davvero dalla loro parte l'esperienza di alcune centinaia di anni infatti ho due associazioni ultracentenarie la società operaia di mutuo soccorso e la filarmonica salassese mentre la proloco e il carnevale perché anche a Salassa c'è un grosso carnevale hanno più di 50 anni quindi grazie all'associazionismo, alla voglia delle persone di comunità noi riusciamo a creare momenti che raggruppano tutto il paese Siamo partiti dai punti di forza, qualche criticità nel governare il territorio Sì, purtroppo ovviamente non possiamo solo avere note positive un grosso problema è appunto l'abbandono dei rifiuti perché attorno al centro urbano noi abbiamo molte campagne che vengono utilizzate per le passeggiate nelle belle giornate che però gli incivili le usano come discariche a cielo aperto quindi questo non va bene e cerchiamo di lottare contro questi abbandoni immotivati da parte delle persone Allora la sua carta d'identità è un po' un fiore all'occhiello anche sul territorio perché lei si può dire ha 30 anni, è giovane, è un giovane sindaco ma con una certa esperienza di studi amministrativi e donna quanta passione ci vuole per fare il sindaco in un paese così? La passione è proprio quello che mi ha portata a candidarmi e che mi rende fiera di essere sindaco perché la voglia di fare, la mia giovanità sono tutte caratteristiche che mi fanno sì che l'impegno profuso per i miei cittadini è massimo e quindi sono davvero felice di poter essere il sindaco di Salassa Lei è anche un sindaco che ama il contatto con i cittadini e che spesso si è prodigata letteralmente in dei servizi porta a porta Assolutamente sì perché in realtà io sono diventata sindaco e sei mesi dopo purtroppo c'è stato l'avvento della pandemia che mi ha fatto appunto iniziare come un banco di prova notevole e questo ha spinto proprio la mia propensione che era già naturale verso i cittadini ad aiutarli il più possibile tant'è che appunto abbiamo cercato di assisterli in tutto e per tutto durante la pandemia anche portando proprio a porta a porta la spesa e lo rifarei ogni volta che sia necessario Grazie a tutti